Buon tarde, ecco il direttore della gara, Cristiano Coppolo, direttore della gara, i tamburini, benvenuti, benvenuti. Benvenuti la gara, voi, la compagnia del cuco, benvenuti, dopo l'ansia dell'iniziato, la prima, si, Contrada, Borgo di Stani, occhio a passare, mi portano via che la potenza, bravissimi, seconda, Contrada, e qui abbiamo due amazzoni, la sorpresa di quest'anno, due amazzoni che ci si mettono nella gara con i bus, prima sorpresa dell'anno, bravi, complimenti. Questi sono un tipo speciali delle donne, Isardegno, terza contrada, Ossamerlo, Consiga, Calpina, San Benemiano, San Benemiano, letto bene, San Crist, il for, questa è l'ultima, il forice, il bravo.